L'agente Cooper è alta circa un metro e cinquanta. Non è vero! E l'altra sospettata sui 45 anni. 45? Quale madre? Ho capito chi siete. Siete le due ricercate. Sono un agente di polizia. La signora Riva è un testimone e io sono la sua scorta. Sono scortata da una principiante. Tutto lo stato gli dà la caccia. Hola, polizia camera! Poliziotti corrotti e il cartello. Dobbiamo nasconderci per un paio d'ore. Mi piace il tuo sorriso. Hola, smetta. Mi uccideranno prima che possa testimoniare. Non possiamo fidarci di nessuno. Oh, mamma! Chiamo la polizia. Hanno cercato di sedurmi con quella roba da lesbiche. Sono la sua fidanzata. È la nostra posizione preferita. Mi voleva. Cioè, come dire, alla grande. Aveva tipo un'erezione al capezzolo. Non so se l'avete mai vista. Vuole farci ammazzare per delle scape? I tacchi a spillo con i brillanti mi servono per uscire la sera. I tacchi a spillo con le paillettes li uso per stare a casa. Invece, quelle con la zeppa... Tutte le forze di polizia del Texas cercano le due donne. Non penso che stia funzionando. Fai il braccio, la cervo. Ma quello è il braccio del cavallo? È della famiglia dei cavalli. Mi hanno teso una trappola, mi hanno sparato e mi hanno braccata. Le curve me lo impediscono. Lei non sa proprio niente di me. Ho visto le mutande che porti. Resterà nella mia testa per sempre. La devi smettere di trattarmi come la novellina stupida che non sa quello che deve fare. E tu devi smetterla di trattarmi come una criminal. Che diavolo è quella roba bianca? Lievito in polvere. Siamo pasticcere. Torte. Muffin. Ciambelle. Muffin. L'incidente mi ha inervosità un po'. Ci serve una nuova identità. Ma sembra che così vive. Tu devi essere Miguel. Sì, sì. Io so il Miguel. Rimorchio tantissimo come uomo. Oh sì, ecco un bel petto da uomo. Qui non c'è niente. Sì, esatto. Niente. Qu'è. Qui non c'è niente. Qu'è? Un bel petto da uomo. E' un bel petto da uomo. Qu'è? Qu'è? Qu'è?